Il contesto intorno a Gesù è caratterizzato dal sospetto e Gesù, come abbiamo ascoltato, deve difendersi dall'insinuazione di avere pretese spropositate, di fare e dire cose per cui non ha l'autorità. A Gesù viene chiesto di addurre dei testimoni a suo favore. Che giustifichino le sue parole e le sue opere. Il contesto dunque è pieno di sospetto. Forse in un certo senso anche oggi il contesto in cui viviamo è segnato da una specie di sospetto pregiudiziale contro l'annuncio del Vangelo nei confronti della Chiesa e di coloro che la rappresentano. Sembra che sia diffusa l'idea che i cattolici non siano credibili, che abbiano degli interessi che non dichiarano, che la proposta della comunità cristiana mortifichi l'umano invece di esaltarlo, comprima la libertà invece di promuoverla. Un contesto segnato dal sospetto. E in questo contesto come sarà la missione? Si applica al nostro momento e alla nostra missione la parola della lettera agli ebrei che dice «Noi corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Pensate a Gesù per non perdervi d'animo». E dunque la missione continua così. I discepoli, anche se circondati dal sospetto, continuano ad amare, a servire, a sperare. Non si lasciano scoraggiare dal sospetto perché tengono fisso lo sguardo su Gesù e continuano la missione che Gesù ha loro affidato. In certi momenti, in certi luoghi, il contesto è piuttosto ostile. La gente sembra animata da un risentimento verso Gesù. Le sue parole fanno arrabbiare quelli che le ascoltano. La sua intenzione di salvare è ricevuta come una specie di offesa da quelli che pretendono di non aver bisogno di salvezza. La missione di Gesù è contrastata con violenza. In molti paesi, anche oggi, l'ambiente è ostile. I cristiani sperimentano la violenza fisica che distrugge le chiese e uccide i fedeli. I cristiani sono esposti alla polemica delle parole e delle accuse. Sono considerati nemici del bene e della pace. E la testimonianza di tanti martiri del Pime e di tanti altri istituti missionari raccontano esperienze impressionanti di un contesto ostile che è arrivato a uccidere coloro che sono stati inviati e sono arrivati nel nome di Gesù. Ecco, in un contesto ostile, che ne è della missione? E noi continueremo a dire noi corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti tenendo fisso lo sguardo su Gesù pensate a Gesù per non perdervi d'animo ecco come continua la missione i discepoli di Gesù continuano ad amare a servire, a sperare non si lasciano zittire dalle ostilità perché tengono fisso lo sguardo su Gesù e continuano la missione che a loro è affidata l'impressione è che talvolta il contesto sia indifferente qualunque cosa dica qualunque cosa faccia la gente non si lascia toccare dal discepolo di Gesù e dalle sue parole la gente di questo nostro tempo in questa nostra città sembra che perlopiù non abbia bisogno di Dio ciascuno può cavarsela con le sue forze la gente di questo tempo sembra che non abbia né tempo né voglia di ascoltare una promessa di vita eterna già basta la vita che corre su questa terra e va verso la morte che senso ha una vita eterna la gente di questo tempo sembra che non si lasci toccare neppure dal dolore altrui ciascuno ha già le sue preoccupazioni figuriamoci se può interessarsi delle preoccupazioni degli altri ecco nel contesto della indifferenza come sarà la missione e noi continuiamo a dire corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti tenendo fisso lo sguardo su Gesù pensate a Gesù per non perdervi d'animo anche nel contesto indifferente i discepoli continuano ad amare a servire a sperare non si lasciano zittire dall'indifferenza in cui cadono le loro parole e le loro proposte continuano la missione che Gesù a loro ha fidato ecco perché qui c'è una casa ecco perché qui continua la storia del Pime ecco perché oggi qui siamo radunati per dire che nel contesto indifferente nel contesto ostile nel contesto segnato dal sospetto continua la missione della Chiesa in questo momento noi siamo qui per dire teniamo fisso lo sguardo su Gesù abbiamo una corsa da portare a compimento continuiamo ad amare a servire a sperare continuiamo a partire per andare in qualunque posto sia necessaria, desiderata o comandata dal Signore la nostra presenza non ci lasciamo cadere le braccia non ci lasciamo scoraggiare dai fallimenti non ci lasciamo spaventare dalle minacce del martirio perché noi teniamo fisso lo sguardo su Gesù e in questa corsa alla sequela di Gesù noi ci sentiamo confortati da coloro che ci hanno preceduto e che hanno dato anche la vita per morte violenta per essere fedeli alla missione in questo momento non possiamo dimenticare coloro che sono più vicini a un riconoscimento ufficiale della loro santità e che sono originari di queste terre quindi il padre Cremonesi di Crema il fratello Tantardini della Valsassina il don Carlo Salerio uno dei primi missionari poi rientrato per motivi di salute ecco dicono che è prossima non solo la beatificazione del padre Cremonesi ma anche i riconoscimenti che riguardano gli altri ecco questi riconoscimenti che la Chiesa offre ad alcune di queste figure esemplare di missionari dicono così anche voi dunque correte anche voi tenete fisso lo sguardo su Gesù anche voi pensate a Gesù per non lasciarvi cadere le braccia e dunque anche a nome della Chiesa Ambrosiana io do il benvenuto alla riqualificazione di questa struttura alla collocazione qui della sede centrale della casa madre degli uffici generali del Pime do il benvenuto a tutti coloro che qui si formeranno che qui riposeranno per partire ancora do il benvenuto a tutte le iniziative di questo centro e la sottolineatura che voglio dare anche all'apertura del centro culturale del Pime e anche per riconoscere che la missione l'evangelizzazione l'andare per portare il Vangelo altrove è una impresa culturale richiede un confronto tra tradizioni pensieri abitudini modi di vivere e questo andare verso gli altri abiliterà anche la nostra chiesa ad accogliere gli altri ad essere la chiesa dalle genti in cui coloro che vengono da ogni parte del mondo sono accolti come fratelli e sorelle diventano una ricchezza che rende più giovane più aperta la nostra chiesa e ci incoraggia a guardare al futuro come tempo di missione come tempo di coraggio come tempo di annuncio gioioso del Vangelo fosse pure in un contesto sospettoso in un contesto ostile in un contesto indifferente noi perseveriamo nella corsa perché teniamo fisso lo sguardo su Gesù è